Ok mi avete chiesto in molti che programmi utilizzo per registrare, per editare eccetera Principalmente utilizzo questi quattro programmi Quindi sono Adobe Premiere per editare il video Comunque ve lo sto dicendo prima Io utilizzo questi programmi Può darsi che ci sono programmi migliori Però io so utilizzare questi e mi ci trovo bene Quindi non iniziate a dire quello di là è meglio o quello di là è peggio Quindi godete il video Allora, innanzitutto utilizzo Adobe Premiere per editare Poi Photoshop per fare le miniature e alcune modifiche alla foto E poi OBS Studio per registrare lo schermo con la webcam E poi a volte utilizzo Adobe Audacity per registrare soltanto la voce e non il video Ok quindi andiamo su OBS e vi faccio vedere un po' come è il programma Eccolo qui Per adesso mi sto registrando da solo Comunque io utilizzo direttamente la webcam unita al video Quindi non sono due trecce separate e non posso modificare l'immagine a mio piacimento Come per esempio mettere al tutto schermo senza perdere qualità Oppure mettergli tipo il cerchio quando utilizzo a volte uso Clash of Clans Ok quindi andiamo a vedere un po' le impostazioni che utilizzo io Ogni impostazione è diversa per il computer Perché ci sono computer più o meno potenti Allora andiamo su generale Utilizzo più o meno questi di qua Comunque quello che interessa a noi è Output Registrazione Ecco comunque io utilizzo Quindi il percorso di file Comunque questi qua non vi interessano Ho creato una cartella sul desktop e poi ho tutti i file lì dentro Così per non perdermi le mie andri del computer Formato convertitore utilizzo MP4 Fate attenzione qui che il valore bitrate del video Io ce l'ho su 40.000 Però ho fatto delle varie prove Più basso lo si tiene Meno si ha qualità Però maggiori prestazioni si hanno in game Più mettiamo in alto questo valore Più ci vuole un computer potente Io per esempio ho utilizzato anche 60.000 Però diciamo che un po' laggava Quindi ho scelto 40.000 Che tra la qualità e la prestazione Poi intervallo filogrammi 250 Enco del video Ho utilizzato l'H264NV Che utilizza la scheda video E non il processore Che se ne va in carico E resta sempre 100% il processore E quindi vi lagga tutto Vi lagga tutto il computer Prove fatte Comunque bitrate audio 320 Come audio utilizziamo 320 Che è il massimo della qualità Trasmissione Questa serve per mettere streaming Programmi Comunque poi io ho messo in avanza Anzi scocciatoie Ho messo F9 per iniziare la registrazione Ed è felice per sopparla Non per ogni volta andare su Arresta Ferma Oppure inizia la trasmissione Comunque ho visto qualche guida online E poi me la sono messa a mio piacimento Vabbè comunque Adesso vi faccio vedere un po' Audacity Com'è Ecco qui Non sono un esperto di Audacity Quindi utilizzo proprio Basico Per andare a esportare il file In mp3 Ho dovuto scaricare un'estensione Si chiama Lime Mi sembra Non so il genere Quindi Qui è facilissimo Basta impostare Quale microfono Volete che registri E poi Premere Rec Registra E poi andare su file Esporta audio E poi impostate voi Facilissimo Comunque potete Ci sono moltissime guida su YouTube E quindi potete andare lì E poi Per finire Non faccio vedere Photoshop Perché nemmeno io so So benissimo come si utilizza Toltanto utilizzo quelle piccole cagatine Che faccio su Sulle miniature Vi posso far vedere qualcosa su Premiere Allora andiamo Ok ragazzi Questa di qua è tutta la clip Tutto il video che è uscito sabato Ecco qui Questa di qua è il video Comunque È molto Diciamo che è molto semplice da utilizzare Io utilizzo le scocciatoie da tastiera Come tutti Per semplificarmi la vita Quindi per esempio Utilizzo Invece di premere Andare qui Su taglia E poi iniziare a tagliare Basta selezionare Questa di qua Questa Il cursore Adesso mi viene il nome E poi Tagliare Per esempio Da questa parte Vogliamo che si tagli all'inizio E poi per tagliare il tutto Basta spostare Il cursore Dove si vuole Tipo al fine Quasi alla fine Tipo io voglio che Devo tagliare qui Ok E premo Q E lui mi fa un taglio netto Su tutto quello che c'è Non so se lo sapete Che qui Funziona un po' A livello Quindi qui abbiamo Abbiamo due livelli Abbiamo il livello sopra Che questo di qui È del video Invece il livello sotto È dell'audio Ok Il livello sopra Più in basso si trova E più Sarà meno visibile Invece più in alto Si trova Sarà davanti Allo schermo Come per esempio Se vado a mettere Una clip qualunque Ok Vado a mettere per esempio Questa clip È la clip della borsa Clip scena Comunque Come potete vedere Qui sopra ci sarà La clip della borsa Invece sotto Se noi lo andiamo a spostare Ci sarà la clip Quella diciamo normale Quindi per esempio Questa di qua La posso anche Ridimensionare Con scala Scala La vado a diminuire Ecco qui Abbiamo E poi la possiamo anche Spostare con posizione Oppure facciamo Doppio clic Sulla Sulla clip Ecco E possiamo trascinarla Oppure ridimensionarla Come vogliamo Comunque ragazzi Non è un vero tutorial Come utilizzare questo programma Perché ce ne sono tantissimi In giro Era soltanto un video Per informarvi Che programma utilizzo E un po' Diciamo leggermente Come si utilizzano Come li utilizzo io Quindi Niente ragazzi Spero vi sia piaciuto il video E noi ci vediamo A un prossimo episodio Ciao 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 Ciao